tra un po' c'è Andrea perché veramente come assicurano le risate che ci assicura Pippo Franco è la mamma Brangaleva Pippo Franco le posso dire una cosa? io quando mi sono imbattuta nella sua storia personale e se un'infanzia non fa ci ho detto ma sto e ce l'ha disfatto solo il cuore la forza per far ridere e crepar di ridere ci fa morire dalle risate lei proprio un'infanzia facile facile non è che l'abbia avuta posso partire da quella? no, ho un'infanzia molto complicata come molti però nel mio caso è ancora più complicata perché mio padre ha sposato mia madre l'ha messa incinta e meno male altrimenti non sarei più ok dai dai dobbiamo ringraziarlo e gli saremo grazi poi è partito su due donne io sono nato quando lui era prigioniero in guerra è tornato dopo sei anni è mancato dopo sei mesi e io sono cresciuto senza padre diciamo con una sorta di ricordo di mio padre che sono andato a scoprire durante tutta quanta la mia esistenza ma...